Tutto pronto a Vernio per la Fiera di San Giuseppe, la storica manifestazione d'inizio primavera che si terrà sabato 18 e domenica 19 marzo con la Mossa di Bestiame, artigianato, piante da orto e giardino, promossa dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio con la collaborazione della Regione, un'occasione unica per scoprire le tradizioni contadine e visitare un angolo di Toscana, lontano dalle rotte turistiche più battute. La Fiera di San Giuseppe per la Val Bisenzio intera è un'occasione storica, si ripete da anni, è stata rivitalizzata negli ultimi decenni e che racconta ancora una volta un pezzo del nostro territorio, della nostra tradizione, del radicamento territoriale, delle attività minute che la Toscana in maniera così variegata può mostrare. E lo fa mettendo a sistema il mondo dell'agricoltura insieme alla produzione dei cibi e della filiera corta locale in un progetto che oggi bene si inquadra in una valorizzazione condivisa e con dimensioni sovracomunali che stiamo promuovendo. Lungo le strade del borgo di Mercatale e di San Quirico di Vernio si potranno ammirare le razze bovine più famose dagli splendidi esemplari di Mucca Calvana alle imponenti Maremmane, mentre tra gli eventi da non perdere la degustazione degli zuccherini di Vernio, i tipici biscotti all'anice dell'Alta Valle del Bisenzio che si terrà nella piazza di San Quirico domenica. La filiera di San Giuseppe quest'anno si arricchisce con eventi anche il giorno precedente, cioè il sabato, con un convegno sulla promozione di una nostra tipicità, la Mucca Calvana, che poi prosegue con un contest dedicato a un'altra tipicità che è lo zuccherino della Val di Bisenzio, per poi proseguire con tutti gli eventi in calendario della domenica, con eventi rivolti ai più giovani, ai giovanissimi, ai bambini, con esperienze con gli animali e quant'altro, poi tutta la parte dedicata al commercio e alla promozione dei nostri prodotti con gli espositori, artigiani, produttori agricoli e alimentari della nostra zona.